ciao sono giuseppe del modellismo sant'alessandro oggi vi presentiamo un kit che è perfetto per gli amanti dei telefilm e comics è la batmobile della mt in scala 1.25 adesso ve la faccio vedere e vi faccio vedere la scatola e anche abbiamo qua presentabile da far vedere già il modello montato così vedrete come è bello e che piacevole che sia questo modello ecco qua la scatola la batmobile del film del 1989 in scala 1.25 come detto della mt la mt è un marchio che fa dei prodotti veramente di qualità marchio americano spesso e volentieri troviamo direi quasi esclusivamente macchine e track camion americani naturalmente la batmobile la possiamo dire che è universale andiamo a vedere il kit realizzato dal nostro affezionato cliente come vediamo già naturalmente è stata colorata dal cliente macchina è non bella bellissima si può anche smontare il tettino apribile e vedere quelli che sono gli interni quindi interni veramente fatti bene e di altissima qualità direi che manca solo batman venite a trovarci in negozio al modellismo sant'alessandro in via garibaldi 4b a bergamo oppure venite a trovarci e trovate anche questo mezzo nel nostro shop trattino model sant'alessandro punto com anche questo che è un bambino questo è un bambino che è un studio molto buon